La concessionaria l'auto vi augura buone feste. D'ora un po' il Vangelo potrà essere letto anche in dialetto valtellinese. L'idea di tradurre il testo sacro anche in lingua dialettale è di Massimiliano Gianotti, sociologo sondese che da pochi giorni ha lanciato in libreria il volume Il Vangelo, originale trascrizione della storia di Gesù in dialetto di Valtellina e Valchiavenna. Si è rivelato fin da subito un progetto ambizioso. Come diceva l'amico e vescovo emerito Diego Coletti, già dai primi passi evidenziava come la Bibbia, in particolare i Vangeli, erano stati tradotti in tutte le lingue del mondo. Però effettivamente mancava il nostro linguaggio dialettale valtellinese di Valchiavenna. Quindi si è rivelato già da subito una sfida da questo punto di vista. Il testo sono circa un 360 pagine, tutte tradotte in dialetto valtellinese, e di queste pagine una parte è anche iconografica e soprattutto è stata interpretata, è stata presa dal prezioso codice dei predis del 1400 che si trova nella Biblioteca Reale di Torino e per il quale abbiamo ricevuto anche l'autorizzazione da parte del Ministero. Il testo è composto da 368 pagine e belle illustrazioni. In vista del Natale può essere un'idea regalo speciale. Il suo acquisto consentirà al gruppo della Croce Rossa di Sondrio di poter continuare le sue attività solidarie. Sono stata felicissima che il nostro volontario di Croce Rossa, Massimiliano Gianotti, abbia dato anche questo risvolto di benefico, di volontariato ai proventi, a una parte dei proventi che deriveranno dalla vendita del libro. Il messaggio che viene dal Vangelo è un messaggio di carità e di amore universale, di fratellanza. Di conseguenza la Croce Rossa ci sta pienamente e come già in passato Massimiliano aveva fatto, anche questa volta appunto il nostro comitato avrà poi un ritorno con la possibilità di acquistare una sedia meccanizzata per il trasporto di pazienti disabili.